Oggi abbiamo il nostro sindaco, il professor Piercarlo Fabio, un ex allievo del liceo giuridico e un socio della nostra associazione. Grazie per il libro Conoscere Rosmini perché il pensiero di Antonio Rosmini è molto centrale nell'evoluzione anche politica di questo nostro paese. Consegniamo alla conoscenza del professore una città che proprio in quegli anni era all'avanguardia in termini di accoglienza delle idee della rivoluzione francese. La battaglia di Marengo dà in via tutta una serie di idee che si inseriscono e si radicano nella società alessandrina al punto che nel 1821 ad Alessandria nella cittadella sventola per la prima volta un tricolore nella nostra nazione perché si effettuano i primi moti risorgimentali. Il cattolicesimo liberale che Rosmini propugna è un cattolicesimo che raccoglie o tenta di raccogliere o di tener conto delle idee della rivoluzione francese. Anch'io contraccambio con questo piccolo libretto che si chiama Le Lancette del Risorgimento, Alessandria e i moti del 1821. La consegno, è anche questa una piccola dedica. Professore, poi voi ve lo vedrete, ve lo leggerete, c'è anche qualcosa di curioso. Sappiate che la nostra città è all'avanguardia della nazione e quella è una delle città che fa la nazione e di questo io penso si possa essere orgogliosi. Grazie e buona conferenza. Grazie.